Buonasera, sono Ilario Quaglia della Frind, io sono un co-founder di questa società. Siamo qui all'Università di Perugia per presentare la nostra app. Partiamo proprio da qui, che per noi è un punto importante. Alcuni dei nostri componenti, non co-founder e il founder, hanno studiato proprio qui. Quindi per noi è un'opportunità poter riuscire a presentare la nostra applicazione. La nostra applicazione ha come scopo principale quello di poter riuscire a rendere reale l'incontro tra delle persone amiche. Quindi si basa tutto su questo, sulla possibilità di poter incontrarsi e insieme condividere attività ed eventi. Frind è in fase di sviluppo e a breve andremo negli store. Entro settembre, fine settembre, inizio d'ottore, ci potete trovare negli store sia di Android che di Apple. Vi aspettiamo, vi invito a seguirci nella nostra pagina Facebook, Frind, e direttamente nel nostro sito www.frind.it. Grazie per l'attenzione. Grazie.